Ciao ragazzi, siamo pronti per entrare a Gardala! Per iniziano andiamo nell'isola dei pirati di Peppa Pig La Ligia è morto! E adesso facciamo il petto, qui sono da per la tua parte? Andiamo! Grazie! 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 Scegliamo il nostro cammino! Andiamo! Grazie! 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 tra poco faremo lo shaman con il doppio giro della morte e i i i i i i e ragazzi ora saliremo sul mammut stiamo salendo stiamo soggiorando stiamo salendo questa è la città del Goku Panda stiamo salendo 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 stiamo salendo